Poi ci sono gli strumenti per i cittadini, per le aziende. Le aziende hanno una grande opportunità, quello che si chiama lo spostamento casa-lavoro, che è uno spostamento quotidiano, ripetuto, prevedibile, previsto, controllabile. Lì ci sono altri strumenti, che vuol dire il carpooling, piuttosto che lo shell, l'intermodalità. E adesso stanno arrivando degli strumenti tipo le app di mass, che sono delle app che ti aiutano a spostarti in modo intelligente, magari anche in modo ecosostenibile, per cui degli applicativi che ti dicono ad andare dal punto A al punto B, con quali mezzi, con quali tempi, sbloccando magari il monopattino elettrico, piuttosto che la bici o il car sharing, automaticamente. Per cui tenendo sotto controllo quello che è la tua impronta carbonica degli spostamenti, che a noi, magari la mia generazione può sembrare un'eresia, ma se noi andiamo a prenderla, moriamo con le università, che sono ragazzi che hanno molta sensibilità su questo fronte, per andare tutti i giorni in aula, piuttosto che nei plessi, e non si muovono tendenzialmente con un'auto individuale propria, come noi siamo stati abituati. Per cui loro già ragionano in modo di mobilità sostenibile, mobilità alternativa. Strumenti vuol dire anche applicativi, per darti la sensazione che tutto questo lo puoi fare, con la stessa velocità, la stessa sicurezza, la stessa rapidità, e raggiungendo quelli che sono poi i tuoi obiettivi, le tue destinazioni, i tempi che hai. La gamma di strumenti, un tempo si chiamavano killer application, ci darà l'opportunità di accelerare o meno questo pezzo, questa transizione, perché sapendo che hai bike sharing, piuttosto che tutti gli strumenti accessibili, si parla molto che in un futuro avremo le auto a disposizione, i centri saranno frequentati solo di auto condivise, non più di auto private. Tutta questa cosa qua non è futuro, ma è già pezzo di realtà concreto, in certe città ci sono già, certi esperimenti stanno andando avanti, i trasporti pubblici li stanno potenziando, insomma sta arrivando un massiccio incremento di attenzione su questo fronte, insomma anche legato a come si sta evolvendo le città, come le stanno progettando, ai grandi eventi, insomma stiamo parlando con Milano Cortina, quando arriveranno centinaia di migliaia di persone, essendo un'Olimpiadi sostenibile, dovranno muoversi in modo sostenibile, allora bisogna dargli possibilità, opportunità e strumenti, e consapevolezza.